Ciao e buon inizio mese, anche questo dicembre è arrivato piuttosto rapidamente oggi ho messo questa maglietta lupetto color rosa confetto col collo è piuttosto inusuale, io metto la maglietta col collo ma me l'ha regalata una mia amica sabato scorso che era il mio compleanno ma prima di mostrarvi il mio outfit oggi voglio farvi vedere questo questa notifica mi è arrivata proprio sabato scorso e mi ha reso molto felice questo perché se qualcuno decide di darti uno scambio per la tua creazione significa che in qualche modo lo fa stare bene sono soltanto 2 euro e 50 anzi 2 dollari e 50 che più o meno saranno sui 2 euro ma questo per me è preziosissimo non c'entra quanto sia l'importo e quando io ho letto 2 euro e 50 da Rex Solus e non so a dire il vero come si pronuncia il nome perché non so di che nazionalità sia o se il suo sia soltanto un nickname io ho pensato di chiedere a tutti i miei followers la stessa cosa di lasciarmi un super grazie come ha fatto lui perché io in questo momento ho veramente bisogno di voi ho un problemone grande grande da risolvere con questo non sono qui a raccontarvi la mia storia perché credo che piangerei e non è il luogo il momento adatto perché io mi sono sempre proposta di lasciare fuori dal mio canale gli argomenti tristi, il gossip, l'astio, le critiche perché quello che io volevo ottenere era creare il mio piccolo universo di spensieratezza e leggerezza e credo di avere perseguito sempre questo obiettivo e in qualche modo di andare in quella direzione e raggiungerlo però io adesso ho bisogno di voi lasciatemi anche voi un super grazie come ha fatto lui che per voi sono soltanto 2 euro per me è un aiuto infinito in fondo siete tanti e magari per voi non è così non incide così tanto nel vostro budget allora io lo so che tutti noi abbiamo la nostra vita le nostre problematiche tutti abbiamo ricevuto schiaffi dalla vita poi probabilmente c'è anche qualcuno che ha una vita scorrevole tranquilla, regolare ma io per questo sono felice io sono felice perché sta bene non provo invidia per nessuno perché credo che sia davvero inutile e questo è quanto quello che vi voglio chiedere è di lasciarmi un super grazie adesso, in questo momento perché io adesso ho veramente bisogno di voi in modo da poter continuare con le mie creazioni e con il mio canale chissà per quanto magari anche per sempre e un'ultima cosa ricordatevi che qualsiasi cosa voi facciate per me vi ritornerà con un bene grande così qualsiasi cosa voi facciate per la zia Sabri in cambio vi ritornerà del bene questo ve lo garantisco grazie a tutti Grazie a tutti.